L'appuntamento con la Fiera delle Grazie, l'appuntamento credo che forse sia più conosciuta per i madonnari questa fiera, anche se è ultracentenaria. Il sindaco Badolato è nuovo, nuovo e ne ho eletto da poco, si appresta questa prima esperienza come sindaco ovviamente, ma come cittadino no. Ecco un evento importante, il santuario conosciuto un po' in tutto il mondo, ma soprattutto questi madonnari che qui hanno fatto la loro sede. Lei ha detto bene, la fiera è una fiera centenaria, risale al 1425. Il concorso dei madonnari è stato istituito nel 1973 e quindi fra due anni noi celebreremo con tutta la migliore organizzazione possibile il quarantesimo anniversario. Qui è vero quello che lei osservava, cioè che questo è l'evento da un punto di vista mediatico e come impegno finanziario e come coinvolgimento di risorse e dal punto di vista culturale più importante del nostro comune in tutto l'esercizio, durante tutto l'anno solare. Quindi noi ci apprestiamo con molta umiltà ma con grande determinazione a ancora celebrare la festa dell'assunta, secondo tradizione, secondo tradizione per un verso, ma inserendo quest'anno alcuni elementi di novità che continueremo nel 2011 per arrivare poi all'edizione del 2012 avendo un modello organizzativo già consolidato che sarà il modello che poi intendiamo proporre per tutte le ricorrenze del 15 di agosto. Ecco ovviamente il momento clou sarà il 15 di agosto con la premiazione di Madonnari però voi avete organizzato una serie di manifestazioni prima e anche il 16. E anche il 16 è verissimo, la giornata clou è quella delle 15 appunto perché c'è il concorso dei Madonnari e la dichiarazione dei tre vincitori come elemento di novità posso anticipare che alla fine di questa manifestazione, contrariamente a quello che accadeva in passato, dedicheremo un momento di intrattenimento forte dedicato ai Madonnari vincitori in modo che questi si possono raccontare al pubblico e alle televisioni e possono presentare le loro opere. E' vero quello che lei osservava che il momento topico è collegato proprio alla festa dell'assunto il 15 però la fiera dura dal 13 sera durante la giornata del 14, il 15 e per tutto il 16 e il 16 alle 24 si concluderà con il solito spettacolo pirotecnico in quest'anno accompagnato da musica, un'esperienza che vogliamo fare, fochi d'artificio al suono della musica. Grazie